buon pomeriggio a tutti sono in anticipo maurizio non è ancora arrivato ecco volevo provare con questo cellulare queste sono prove se va bene lo lasciamo sistemiamo anche i cuscini per il maestro da scaldi mettiamo il cuscino buono perché anziano e ha bisogno di comodità e anche io sono anziana ho già 40 anni e quindi ci mettiamo il cuscino buono che non come state come state buonasera a tutti non c'è nessuno collegato per il momento ma noi continuiamo lo stesso perché vedo che sta andando la live quindi va benissimo sistema un po qua ecco così ok qui c'è un buonissimo profumo si sente di cioccolato perché ho comprato le candele le candele al cioccolato ve le faccio vedere ma sono veramente buone al cacao al cacao è buonissimo l'ho presa perché era in offerta volevo anche provarla io di solito queste le prendo quando quando le mettono in offerta perché costano un sacco di soldi mancano cinque minuti perché venga il maestro gastaldi pierricardo di girolamo ciao prendiamo subito il brano il brano che dedicheremo proprio a pierricardo di girolamo che prima tramite messaggio ti ho chiamato che era coso sbagliato perché hai un nome difficile pierricardo non avevo mai conosciuto nessuno con questo nome che ricardo di girolamo e meno male che sono adulta e riesco a dirlo da bambina non ci sarei mai riuscita a dire il tuo nome cognome eccomi avvicino così allora la candela è lì c'è un po di venticello aspettiamo maurizio nel frattempo cerchiamo la canzone Deus ti salve Maria che Pierricardo conosce molto bene mi ha detto che la conosce da quando era bambino vediamo se qui oppure e poi vi lasceremo subito io e maurizio perché dobbiamo imparare una canzone nuova è già quasi pronta è già quasi pronta però eccola qua Deus ti salve Maria adesso aspettiamo maurizio eccola qua nel frattempo sistema un paio di cose qua queste sono tutte canzoni scritte da maurizio gasta di bellissime che devo rimettere nei quadernoni ma adesso non lo faccio ecco qui Maurizio Gastaldi il maestro Gastaldi è arrivato è arrivato ma non sa che noi siamo già in live o forse ha sentito perché anche se è anziano l'udito gli funziona Maurizio 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 siamo in live toliti la mascherina ma no scherzo scherzo l'ho detto anche per me sono anziana perché ho 40 anni prima i quarantenni dove stavano? stavano nelle panchine erano tutti pensionati perché si andava in pensione a 38 anni circa 40 giusto? ed erano tutti seduti nelle panchine col berretto perché c'era il sole per proteggersi dal sole ed erano anche già nonni invece noi siamo single siamo ancora single chi è già divorziato risposato insomma è una... accettiamo tutti divorziati e divorziate è un... siamo... è un'altra generazione siamo tutti più giovani io sinceramente 40 non me ne sento quando ne avevo 30 me ne sentivo 50 adesso che ne ho 40 sono tornate indietro più di 25 più di 25 non me ne sento no 30 sono troppi più di 25 non me ne sento non so voi scrivetelo se volete nella chat adesso che non sto cantando così posso leggere Maurizio dobbiamo dedicare per farci perdonare a Pierricardo di Girolamo Deus ti salvet Maria noi siamo sempre giovani dice Pierricardo ha ragione forever young ha ragione siamo sempre sempre giovani forever young allora ecco io mi sposto un po' più qui strano che stia funzionando la linea in questo cellulare meglio così lo lasciamo tanto è solo per una canzone poi vi salutiamo perché dobbiamo studiarne una nuova Pierricardo ti saluta guarda ti ha scritto Maurizio ciao Maurizio benvenuto ti ha scritto ciao Pierricardo è timido è timido Maurizio devo salutare è timido è timido bene dedichiamo questo brano bellissimo scritto da Maria Carta Deus ti salve Maria io mi siedo di San Corrente di San Corrente Su te uso mi potente, con te cos'essi stato, brocchita preservando, imaculada. Brocchita preservando, imaculada, beneita è la undata, sopra dottura orienza. Mamma fidza e sposa del suo Signore. Mamma fidza e sposa del suo Signore. Bene ito su Fiore, chi è frutto del suo Signore. Gesù Fiore Divino, Signore nostro. 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 Gesù Fiore Divino. Gesù Fiore Divino, Signore nostro. Gesù Fiore Divino. Il paradiso E' sadiciosa Sorte Il paradiso Bene, grazie Grazie mille Grazie mille Ho sbagliato il testo C'era una pagina giusta E l'altra era sbagliata Infatti dicevo Non è possibile che dica così Allora ad un certo punto ho inventato una parola E poi tanto la memoria Ancora mi funziona bene E ho continuato bene Però ho preso metà testo Di Maria Carta Deus ti salve Maria Che abbiamo appena fatto e abbiamo dedicato al mitico Pier Riccardo di Girolamo E l'altro testo Praticamente ho preso La Corsicana La Corsicana Antunedo Antunedo Che non c'entrava niente Però è andata bene Lo stesso Un attimo solo Che vi saluto Perché noi abbiamo Ah no Il quadernone Qui Il quadernone Qui Quindi questa non è Deus ti salve Maria La devo mettere qua Eccoci qui Questa poi la metterò Dall'altra parte E noi ci salutiamo Vi diamo appuntamento Maurizio Quando possiamo dare appuntamento Ai nostri amici Altrimenti Si lamentano Giustamente Mi sono arrivate delle Dei riprovi Mercoledì Mercoledì Allora ci vediamo Mercoledì Sempre alla stessa ore Ora alle ore 16 Su questo canale Veronica Pisano Scritto anticirillico Iscrivetevi Iscrivetevi anche al suo canale Maurizio Gastaldi Seguitelo Seguitelo su Facebook Perché lui Ci tiene Ciao ragazzi Buon lavoro Grazie Adesso studiamo Una nuova canzone Poi te la facciamo sentire Stavo dicendo Seguiteci anche su Rivista Donna A cui ho voluto dare L'esclusiva Perché è un bellissimo Giornale Il mio preferito Sull'Unione Sarda Su Totusi Pari Su Radio Bonaria Radio Sant'Elena E altri che adesso Mi sfuggono Mi sfugge il nome Bene Ciao